Nel Pianeta Terra Nel corso della storia ci sono state 5 grandi estinzioni di massa, dovute principalmente a cambiamenti climatici avvenuti per cause naturali. Oggi noi siamo alle porte della sesta grande estinzione di massa, anche questa per colpa di un cambiamento climatico, ma che ne dicano i negazionisti stavolta non è colpa della natura, come in quelle precedenti, ma è colpa nostra. Infatti mai nel corso della storia del nostro pianeta c'è stato un così rapido aumento delle temperature globali come è avvenuto negli ultimi due secoli dalla rivoluzione industriale ad oggi. Ci sono stati cambiamenti di temperatura nel corso della storia? Sì, assolutamente. Così veloce? No, mai. E a questo i negazionisti non sanno cosa rispondere. Gli effetti del cambiamento climatico ormai sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo estati sempre più calde, abbiamo effetti atmosferici sempre più devastanti, abbiamo bombe d'acqua alternate a periodi di siccità, abbiamo scioglimento dei ghiacciai, acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità ed estinzione delle specie e molto altro ancora. Ok? Ma secondo me la cosa più grave di tutte queste in realtà è solo una, ovvero che molti di noi non si rendono conto che il problema del suo riscaldamento globale non è un problema lineare, ma è un problema iperbolico. Cosa vuol dire questo? Significa che anche se sembra lontano nel tempo la devastazione ambientale, in realtà è dietro l'angolo. Perché? Perché accelera sempre di più. E perché c'è questa accelerazione? Gli scienziati l'hanno ben studiata, ci sono dei meccanismi che si chiamano meccanismi di retrazione positiva o retrazione climatica. Faccio un esempio molto semplice. I condizionatori. L'estate è sempre più calda, ogni estate è più calda di quella precedente. Quindi le persone utilizzano sempre di più i condizionatori. Ma più utilizziamo i condizionatori, più emettiamo gas serra. Più emettiamo gas serra, più aumentiamo la temperatura del pianeta. Più aumenta la temperatura del pianeta, più l'estate diventano calde. Più l'estate diventano calde, più utilizziamo i condizionatori. Capite? E' una cosa esponenziale, iperbolica. Come una pallina su un piano inclinato. Non mantiene la stessa velocità, ma accelera sempre di più. Ebbene, quindi questo va ben compreso. Il problema è alle porte ed accelera sempre di più. Ma come incide effettivamente il surriscaldamento globale nella nostra vita di tutti i giorni? Faccio due esempi di cose poco considerate dai media, ma secondo me estremamente importanti. C'è stato un momento nella storia in cui la vita sul pianeta era completamente assente nella fascia centrale del pianeta. Cioè la vita era soltanto nel nord e nel sud del pianeta, mentre al centro, nella zona equatoriale, non c'era traccia di vita. Ebbene, questo sta per risuccedere. I popoli che vivono sulle fasce equatoriali, vicino all'equatore, già soffrono la siccità, ma ne soffriranno sempre di più. E la fascia di siccità aumenterà le sue dimensioni sempre di più. E ora capite che questi popoli, che già adesso hanno problemi a coltivare e avere il cibo, se si troveranno completamente privi di cibo e di acqua, o muoiono o se ne vanno. Giustamente. Ecco, secondo l'ONU, entro il 2050 ci sarà un miliardo di persone, di migranti climatici, che si sposterà dai paesi equatoriali, dai paesi poveri ai paesi più ricchi. Un miliardo di persone si sposteranno, e questo ovviamente cosa provocherà qui? Provocherà conflitti sociali, aumento della povertà, aumento della criminalità, e porterà a delle vere e proprie guerre climatiche per accaparrarsi quelle poche risorse che ci saranno per colpo del suo riscaldamento globale. Avete capito bene, ho parlato di guerre. Ma c'è anche qualcosa peggiore di questo. Il fitoplancton. Il fitoplancton sono dei microorganismi piccolissimi che vivono nell'acqua e fungono da nutrimento per un'infinità di specie marine, ma hanno un ruolo naturale ancora più importante di questo, ovvero creano oltre il 50% di tutto l'ossigeno del pianeta. Ebbene, qui il problema è che il surriscaldamento globale sta scaldando il mare sempre di più e sempre più velocemente e il fitoplancton non riesce ad evolversi altrettanto velocemente per resistere alle nuove temperature. Dal 1950 ad oggi i livelli di fitoplancton nel mare si sono ridotti del 40%. Ecco, vi lascio soltanto immaginare le conseguenze devastanti che ci sarebbero se si estinguesse quel produttore naturale di oltre il 50% dell'ossigeno del pianeta. Le conseguenze sarebbero irreparabili, assolutamente. Ok, potrei andare avanti e citare molti altri esempi orribili, ma non voglio far venire gli incubi a nessuno stanotte, quindi chiediamoci, quale può essere una soluzione a tutto questo? Premessa, non c'è una soluzione. Cioè, non ce n'è solo una, ce ne sono diverse, ok? Non possiamo puntare solo su una cosa, ma dobbiamo fare diverse cose. Spesso si parla di rendere più ecosostenibile la produzione energetica, assolutamente fondamentale. Però è stato stimato che se volessimo cambiare l'intero sistema produttivo da quello tradizionale a quello eolico e solare, ci metteremo più di 20 anni. Ebbene, non abbiamo 20 anni. Secondo la Global Commission of Economy and Climate, noi abbiamo circa 10 anni di tempo prima che questi meccanismi di retrazione climatica si attivino, prima che parti questa accelerazione, dopo la quale tutto quello che faremo sarà poco efficace. Quindi cosa possiamo fare? Potremmo smettere di utilizzare le auto, eh? Che ne dite? No, non direi di no, perché poi come andiamo a lavoro, come andiamo a fare la spesa e tutto il resto? Potremmo abolire il calcio, eh? Perché il calcio? Ma non so se lo sapete, ma una partita di calcio notturna consuma quanto una cittadina di 40.000 abitanti. Per 90 minuti di una partita si utilizza e fa bisogno energetico di 12 famiglie per un anno. Ma no, non possiamo abolire il calcio, no? Ci sarebbe la rivoluzione il giorno dopo, non come se i governanti stessero completamente ignorando un'imminente apocalisse climatica. Quindi cosa possiamo fare? Potremmo abolire le crociere, no? Le navi da crociera in Europa inquirano 20 volte di più di tutte le auto dell'Unione Europea. 20 volte di più. Poi ci chiedono di fare le targhe alterne, no? Come se servisse a qualcosa. Va bene. No, va bene, non possiamo nemmeno abolire le crociere. Allora cosa possiamo fare per non incidere troppo sul nostro stile di vita? Potremmo diventare tutti vegani, eh? Certo, sarebbe una cosa straordinaria perché purtroppo il consumo di prodotti animali, di carne e derivati è uno dei principali responsabili del surriscaldamento globale. Oltre il 15% di tutte le emissioni gas serra derivano dalla produzione di prodotti animali. Inoltre il metano, che è largamente prodotto da questo consumo nel breve periodo, è quasi un centinaio di volte più distruttivo della CO2. Quindi se tutti diventassimo vegani sarebbe un aiuto straordinario per combattere il surriscaldamento globale. Ma ovviamente no. Cioè non diventeremo tutti vegani e soprattutto non diventeremo tutti vegani entro dieci anni. Quindi non può nemmeno essere quella la soluzione. Però in realtà potremmo, in un certo modo... Cosa significa? Significa che è nata da poco una nuova branca tecnologica che si chiama agricoltura cellulare che permette di ricreare carne, latte, uova, pesce, pelle, qualsiasi prodotto organico a partire da delle cellule prese come una biopsia da un animale vivo, una biopsia completamente indolore e ricreare tutto questo però con un impatto ambientale straordinariamente inferiore. Sicuramente qualcuno di voi avrà sentito parlare di carne sintetica che, lasciatemi dire, è un dispregiativo assolutamente stupido messo in giro dalle lobby contrarie a questa invenzione per spaventare le persone. In realtà, la carne coltivata, questo è il nome scientifico perché è coltura dei tessuti, la carne coltivata avrebbe un impatto ecologico straordinariamente inferiore. Per la stessa quantità di carne si produrrebbe oltre il 90% di gas serra in meno. Si consumerebbe inoltre oltre il 90% di acqua in meno e non solo, si utilizzerebbe anche oltre il 90% di suolo in meno. E questo è molto importante perché purtroppo il consumo di carne derivati è una delle principali cause della deforestazione del pianeta. Pensiamo ad esempio all'Amazzonia dove oltre il 90% della foresta amazzonica che è stata abbattuta è stata abbattuta per fare campi di mangimi degli animali che ci mangiamo. Invece, se noi passassimo a una produzione da quella tradizionale a quella con l'agricoltura cellulare non solo fermeremmo la deforestazione ma potremmo anche invertirla e potremmo quindi riforestare quei campi dei mangimi e riforestare è molto importante per fermare il cambiamento climatico perché l'albero è la migliore tecnologia per rimuovere la CO2 dall'aria. Ora, io lo so, potrei andare avanti e dire tanti altri vantaggi dell'agricoltura cellulare, della carne coltivata però so quello che alcuni di voi stanno pensando ovvero sì, va bene, tutto bello però io non mangerò mai cibo sintetico io non mangerò mai carne di plastica. in realtà la carne di plastica la stiamo già mangiando perché le microplastiche oggi sono ovunque sono anche nella carne e nei derivati degli allevamenti cosiddetti biologici perché? perché il mondo non è più quello di cento anni fa il mondo oggi è inquinato e va accettato le microplastiche sono ovunque e le microplastiche causano tumori causano infertilità e causano tante altre gravi malattie ma nella carne coltivata le microplastiche non ci sono perché non servono quindi non ce le mettono così come non ci sono gli antibiotici gli ormoni i parassicidi i pesticidi contaminazione fecale e molto altro e il fatto che non ci siano gli antibiotici è estremamente importante perché purtroppo negli allevamenti stiamo bombardando gli animali di antibiotici e questo sta trasformando i batteri in super batteri e gli antibiotici stanno diventando inutili di anno in anno l'antibiotico resistenza sta facendo sempre più morti e secondo l'ONU entro il 2050 l'antibiotico resistenza diventerà la prima causa di morte nel mondo se non facciamo subito qualcosa e la carne coltivata potrebbe aiutarci in questo in fondo è solo carne carne pura creata in un ambiente completamente sterile da uomini con il camice bianco io so che qualcuno di voi dirà ok sembra veramente utopico ha tantissimi vantaggi però a me queste cose mi suonano come fantascienza e basta in realtà la carne coltivata ha già superato diversi test di sicurezza in diversi paesi del mondo dove è stata approvata e già la consumano l'Italia invece è l'unico paese al mondo che ha deciso di proibirla non si è ben capito su quali motivazioni però qui noi l'abbiamo proibita ecco e questo non solo perché la maggior parte della politica purtroppo è contro questa innovazione ma anche la maggior parte dei media sembra schierata contro questa innovazione ad esempio io ho trovato su tantissimi giornali anche tra i più importanti italiani una notizia un titolo che diceva oltre il 95% degli italiani non mangerà mai la carne sintetica ovviamente loro la chiamano carne sintetica va bene io sono andato a vedere come hanno fatto questo studio e vado a scoprire che è un sondaggio che hanno fatto su 600 persone 600 persone che dovrebbero rappresentare 60 milioni di abitanti quindi va bene ma non è questa la cosa più interessante quello che mi ha colpito è che loro hanno preso le persone che rispondevano al sondaggio dicendo sì probabilmente mangerei la carne coltivata e le hanno messe nel no cioè quel 5% di persone a favore sono solo quelli che hanno risposto sicuramente sì mangerei la carne coltivata mentre tutti quelli che hanno risposto probabilmente sì mangerei la carne coltivata sono diventati contrari e così si è ottenuto quel 95% di contrari anche con quelli in realtà che probabilmente la mangerebbero ecco questa è solo una delle tante tecniche che usano i media per manipolarci e questo è orribile ma quello che mi fa pensare anche è che in un contesto in cui la maggior parte della politica è contro questa innovazione e anche la maggior parte dei media sembra contro questa innovazione chi è che c'è a favore? chi è che combatte a fianco degli scienziati per promuovere tecnologie come questa? per aiutarci a salvarci dal cambiamento climatico? potremmo pensare le organizzazioni e gli influencer, quelli animalisti, ambientalisti ma in realtà no mi vuole dirlo ma anche da quelle parti non abbiamo un grande supporto infatti io insieme ad altri attivisti abbiamo portato in Europa una campagna chiamata End Slotter Age per chiedere al Parlamento europeo di valutare la possibilità di spostare i sussidi dalla produzione tradizionale con gli allenamenti intensivi a una produzione alternativa più etica, più ecologica con anche appunto l'agricoltura cellulare abbiamo raccolto più di 860.000 firme ce ne mancavano circa 140.000 per raggiungere l'obiettivo e purtroppo quando abbiamo chiesto aiuto alle varie associazioni animaliste gli influencer, animalisti, ambientalisti ci hanno chiuso le porte in faccia perché? perché la carne coltivata è un tema divisivo perché c'è tanta ignoranza e quindi si preferisce non perdere i scritti non perdere i sostenitori e mantenere una posizione più di silenzio è un peccato perché avremmo potuto vincere questa battaglia però è comprensibile ma quindi la domanda finale con cui vi chiedo è in un contesto in cui la maggior parte della politica e la maggior parte dei media sono contro un'invenzione così importante che potrebbe aiutarci a salvare il nostro futuro e a salvare la vita di tutti noi in un contesto in cui anche quelli da cui dovremmo aspettarci di avere un supporto non lo fanno lo fanno solo timidamente per paura di perdere sostenitori e scritti chi c'è allora a combattere a fianco degli scienziati per cercare di salvarci per cercare di salvare il futuro di tutti noi ci siamo noi ci siamo solo noi vedete purtroppo Hollywood ci ha abituato che per quanto le cose possano andare male per quanto ci possa essere l'invasione degli alieni l'attacco degli zombie o la peggiore calamità naturale noi alla fine in qualche modo ce la caviamo alla fine troviamo sempre una soluzione e ci salviamo ma in realtà questo non è un film questa è la vita vera questa è la realtà se noi pensiamo che i politici, i media ci salveranno stiamo freschi purtroppo loro la maggior parte di loro non tutti ma la maggior parte di loro guarda solo a breve periodo se non siamo noi i primi a informarci su queste nuove tecnologie e a informare gli altri e a combattere la disinformazione dei media e a chiedere ai governi di togliere questi stupidi divieti e anzi di promuovere tutte le tecnologie che possono aiutarci a salvarci la vita dall'imminente apocalisse climatica se non lo faremo noi non lo farà nessuno voglio concludere con una frase il mio intervento una frase di Winston Churchill del 1931 lui disse verrà un giorno in cui abbandoneremo la folla idea di crescere un intero pollo per mangiarne soltanto il petto e l'ala e faremo crescere queste parti separatamente in un macchinario apposito ecco io vi chiedo di lottare insieme a me e agli altri attivisti affinché questa profezia diventi realtà grazie applausi grazie